L'occhio. Forse non mente, ma non pensate nemmeno per un istante che non gli si possa mentire. Vedere per credere. Ma è la verità? La gente vede i cavalieri come dei nobili Robin Hood. Lo sono davvero? O sono solo dei comunissimi ladri? Dipende dai punti di vista. Quello che sapete è che hanno rapinato una banca di Parigi da un palco di Las Vegas, che hanno sottratto centinaia di milioni di dollari a un magnate delle assicurazioni e sono fuggiti da un tetto di New York ricoprendo ogni volta i loro devoti fan di banconote. Quello che non sapete è che hanno abbandonato un uomo incastrandolo, una vittima che sta pagando per tutti. Sono io. Allora mi sentite, cavalieri. Quando riapparirete, e so che lo farete, lì mi troverete che aspetto, perché ve lo posso promettere. Avrete esattamente quello che vi spetta, in un modo che non potete immaginare. Grazie. 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 Grazie.